Siamo qui alla Sapienza a Roma a chiedere ai ragazzi di valutare la propria università. Un professore che gesticoli troppo, sei siciliana e allora ti devo bocciare. Fate la materia gesticola, quella si sta scondendo. Mi è capitato mai che c'è il professore buono e l'assistente, oppure il contrario. O il contrario. Assistenti, per favore, assisteteci. I professori non sempre si riescono a contattare. E qua, giusto? Cercate di rispondere più velocemente ai vostri studenti. Non credo che sia proprio il professore il problema. E' semplicemente non capire una ceppa di fondo che ti frega. Gli esami che saltano, quindi studi per un esame ma poi lo fai dopo 5 mesi. Alle volte perché non si sono svegliati per venire a fare gli esami? Svegliatevi per venire a fare l'esame perché noi ci svegliamo alle 6. Svegliatevi, non è complicato.